Confucio dice, non importa se stai procedendo molto lentamente, ciò che importa è che tu non ti sia fermato. Perché? Perché chi si ferma si cristallizza e la cristallizzazione richiama il dolore. Confucio dice, non importa se stai procedendo molto lentamente, ciò che importa è che tu non ti sia fermato. Perché? Perché chi si ferma si cristallizza e la cristallizzazione richiama il dolore.